Presidente, il ruolo della provincia in quest'opera strategica per il territorio, ma soprattutto per la frazione di Sass? Sì, intanto di programmazione e di investimento per la risoluzione di una criticità annusa, che è stata sempre sollecitata e che oggi però è ancora più importante per tutto quello che quell'area rappresenterà, soprattutto per il comparto scolastico. Quale sarà il vostro ruolo a livello organizzativo, a livello logistico e tutto quello che ne segue? Sì, intanto consegniamo nel Comune dell'Aquila questo embrione di programmazione, certamente assumendo gli oneri finanziari ed economici che l'opera comporterà, circa 1.600.000 euro, che insomma corrisponderemo man mano al Comune dell'Aquila nel tempo che va a sviluppare la progettazione esecutiva e poi quelle che saranno le opere e gli interventi. L'interpolatore al Comune dell'Aquila, ma la provincia contribuirà in qualche modo? Certo, contribuiremo perché sosteremo l'intero onere della realizzazione.